Sì, 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 è arriva sul meme di oggi, sì. Questa persona, United States, Jack, è la speranza del mondo. Questa persona mi dà speranza verso il genere umano. C'è pranzo, vedi, Ale. Questa persona gioca a Weeping Bell, Xurkity, Bishar, Kindra e un solo Uber. Io, anche se sto vincendo, all'ultimo 4 contro 1, premo fuga. Questa persona ha vinto, intellettualmente ha vinto. Questo uomo è più uomo di me. Questa persona si merita tutto. Tutto. Cazzo quanto ti rispetto. Porca troia. Mamma mia, quanto sei bello. Il secondo Uber è Weeping Bell. È in pose Jojo. È in pose Puccerati che dice 10 milioni di lire. 10 miliardi di lire. Bucciarati! Questa andrà tutta sul canale YouTube. Poi, tra parentesi, Che cazzo lecchi, Bucciarati! Ma che cazzo lecchi! Bravo, ragazzi. Te la sei meritata? Hai giocato meglio te? In assoluto? Il team building è stato pazzesco. Leftovers su Incineroar ha fatto la differenza. Perché se lui non aveva Leftovers su Incineroar... Sarebbe andata in bagliari adesso. Ora facciamo... E smetto lo strike sul Gengar. L'ho fatto però a tutte, vero? Con Xernias. Ciao Manuel! Ascolta, ora sono in live. Finisco la live E verso le 18 Qualche qualcosa Spero di essere la flyer. Ha fatto Gengar, ma sì. Tu non sei, tu non meriti niente Perché tu non hai Weeping Bell. Ragazzi! Esatto! D'ora in poi Dopo spinda Da 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 un'altra che rotto è? che è se si dà una cartana csb? credo 252 252, comunque è max speed questo ci ha ditto Parasite